Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per lavori, 3 km di coda tra Ginestra e Lastra in direzione Firenze e rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione Mare. Sulla A1 è chiuso per lavori fino alle 13 il tratto tra Rioveggio e Aglio in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Con il rientro a scuola anche delle superiori è in atto una nuova fase del trasporto pubblico. Aggiornamenti e collegamenti in diretta sui canali social di Muoversi in Toscana. Si ricorda che il numero verde regionale per gli utenti del TPL è 800570530. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Netropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!